Musica Questa porta? Ok Però c'è Un frigorifero Ok Si va a sinistra Si va a sinistra Si va a sinistra No Vediamo se sta per sapere Questa dovrebbe essere quella Dovrebbe essere quella E qui non te sfugge niente Ok Non Questa ne vores Questa è andata Intimità igersu Questa ov posteridade Questa cronica La당수 Questa 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.